Ciao ragazzi, bento nel nostro nuovo video Mi dispiace che ho messo già il sapone e la scuola Vabbè, allora, quindi ci manca solo il dentificio Allora Ma che cosa stai facendo? Sto mettendo il dentificio Sì, ma cosa fai? L'ho? Slime Allora Allora Cos'è potrebbe battare? Vabbè Allora Ora non ci resta che mescolare Vediamo un po' Un po' di no, è un po' poco Più ci potrebbe riuscire Sai mamma che ci metto un altro po' di dentificio Ok, allora Ok Ok Allora Così, ecco E Ragazzi Se potresti chiedere Però potrebbe uscire Non chiedo se ci riesce Però dovrebbe Se non mescoliamo così tutto insieme Allora Vedete la menta Che buono Oh Ok Allora allora ci riesce dai ragazzi dai ditemi che ci riesco si potrei ragazzi stoppate il video ciao allora è già stato creato ciao